Milano non può più aspettare, non possiamo più perdere tempo dopo anni di chiacchiere, progetti, studi, riunioni, bisogna riqualificare, dare nuova vita al quartiere San Siro e soprattutto dare alla città, ai tifosi e alle squadre uno stadio nuovo, moderno, più sicuro, più green, più europeo, più moderno. Basta qui no, occorre correre come stanno facendo tutte le altre grandi capitali europee anche perché ci sono dei privati disposti a investire più di un miliardo di euro per arricchire, abbellire e modernizzare la nostra città. Quindi superiamo i no e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano lo stadio nuovo che si merita.